Ah, è nascosto in un luogo sicuro, in un vecchio tronco cavo, appena fuori rite, in un posto riparato. Non lo troverai mai. Accidenti. Cosa vuoi? Basta, fermati e ti dirò dove è nascosto il mio tesoro. Si trova in una roccia cava, nella tundra, poco più a ovest di Wightran. E ora ti prego, fermati. Sì? Non riesco più a sopportare il dolore. Non un secondo di più. Ti darò oro, tesori, o delle ricchezze nascoste. Puoi prenderle, sono due. Ma ti prego, basta! A nord di Windelman, c'è una roccia cava in cui ho nascosto delle cose. Prendi, sono due. Sei in cerca di informazioni? Sì, si tratta dell'eredità, vero? E va bene. Ti dirò dove l'ho nascosta. Si trova in un tronco cavo, nella palude a sud di Solitude. Ora... Ora lasciami andare, per favore. D'accordo? D'accordo?